Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in tv sui canali Sky. Tutte le premiere e le library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go. Film thriller da vedere stasera in tv, on the line, ore 21 e 15 su Sky Cinema 1. Mel Gibson è un conduttore radiofonico che riceve una chiamata anonima in cui viene minacciata la sua famiglia. Il prezzo dell'arte, ore 21 su Sky Cinema Suspense, Riccardo Scamarcio, Olga Curilenco e Lambert Wilson in un thriller. Una fuga di notizie sconvolge nove traduttori al lavoro su un romanzo. On the line, ore 21 e 15 su Sky Cinema 4K, Mel Gibson è un conduttore radiofonico che riceve una chiamata anonima in cui viene minacciata la sua famiglia. Film drammatico da vedere stasera in tv, Machine Gun Preacher, ore 21 su Sky Cinema Drama. Gerard Butler e Michelle Monaghan in un dramma tratto da una storia vera. Un ex spacciatore diventa missionario in Sudan, Romulus secondo la guerra per Roma, ore 21 e 15 su Sky Cinema 2 più 2 4. Seconda stagione della fortunata serie tv Sky Original, film commedia da vedere stasera in tv. Modalità aereo, ore 21 e 15 su Sky Cinema Collection, Paolo Ruffini e Lillo in una commedia di Fausto Brizzi. Un imprenditore dimentica il telefonino su un aereo, un addetto alle pulizie se ne appropria. Qualcosa di travolgente, ore 21 su Sky Cinema Romance, Ray Liotta e Melanie Griffith in una commedia on the road. Una provocante ragazza trascina uno yuppie in un weekend trasgressivo. Agente speciale 117 al servizio della Repubblica Missione Cairo, ore 21 su Sky Cinema Comedy. Jean Dujardin in una commedia parodia dei film di 007. Un agente segreto deve svolgere una missione in Egitto. Mia moglie per finta, ore 21 e 15 su Sky Cinema 1 più 2 4. Adam Sandler e Jennifer Aniston in una commedia nella quale un chirurgo seduce donne inventando crisi coniugali con l'inesistente moglie. Film romantico da vedere stasera in tv, Secret Love, ore 21 e 15 su Sky Cinema 2. Dramma romantico con Olivia Colman e Colin Firth. Una cameriera incontra di nascosto il suo amante, che sta per sposare un'altra donna. Film di azione da vedere stasera in tv, Faster, ore 21 su Sky Cinema Action. Dwayne, Fair Rock, Johnson è un ex carcerato che cerca i responsabili della morte di suo fratello. Film fantasy da vedere stasera in tv, GGG il grande gigante gentile, ore 21 su Sky Cinema Family. Adattamento da parte di Steven Spielberg del romanzo di Roald Dahl, con Mark Rylance. Una bambina stringe amicizia con un gigante, i programmi in chiaro. Ballando con le stelle, ore 20 e 35 su Rai 1, Millie Carlucci conduce il noto format in cui alcuni VIP si sfidano a colpi di ballo per arrivare alla vittoria. Blue Bloods, ore 21 e 20 su Rai 2, famosa serie poliziesca con Tom Selleck e Donnie Wohlberg. Sapiens un solo pianeta, ore 21 e 45 su Rai 3, Mario Tozzi torna con un programma che pone l'attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell'uomo per preservarlo. Pearl Harbor, ore 21 e 20 su Rete 4, Ben Affleck e Kate Beckinsale in un film di Michael Bay ispirato ai fatti di Pearl Harbor. Cusiche Vales, ore 21 e 20 su Canale 5, talent show condotto da Belen Rodriguez e con giudici Jerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Theo Mammuccari. Cattivissimo Me, ore 21 e 20 su Italia 1, noto film di animazione Dreamworks. Gru vuole diventare un cattivo e per farlo cerca di rubare la luna ma tre orpanelle riveleranno il suo tenero cuore. Speciale non è l'arena, ore 21 e 15 sulla 7, Massimo Giletti conduce una puntata speciale del contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire. Snowpiercer, ore 21 e 30 su TV8, Chris Evans in un film in cui i sopravvissuti della Terra devono vivere all'interno di un treno. Scomparsa il caso Ragusa, ore 21 e 25 su 9, per il ciclo, 9 racconta, questa volta il focus è sulla scomparsa di Roberta Ragusa. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.